Un convegno a Palazzo Lascaris e una serie di eventi collaterali per ricordare la figura di Carlo Levi, protagonista di spicco dell'impegno civile della cultura italiana del Novecento. Li ha organizzati il Consiglio regionale con la Fondazione Giorgio Amendola. Dal 17 al 27 aprile il cortile di Palazzo Lascaris ospiterà la riproduzione del Telero, l'opera pittorica di 18 metri per tre, che Levi realizzò per Italia 61. Carlo Levi è conosciuto, famosissimo per lo scritto Cristo si è fermato ad Eboli, ha avuto il coraggio di raccontare la realtà nuda e cruda di quel tempo, definendo i famosi sassi di Matera come la vergogna dell'Italia dopo queste sue dichiarazioni, prima Palmiro Togliatti e poi Alcide De Gasperi, andarono a far visita e poi ci fu la legge del 52 con la quale si lavorò per lo sfollamento della popolazione dai sassi alla parte nuova della città. Venne finanziato questo bene, questo patrimonio che oggi è patrimonio dell'UNESCO. La Fondazione Mendo ha organizzato le celebrazioni del 40esimo della vita e della morte di Carlo Levi in cinque località evocative, c'è Torino dove è nato e dove insieme ai sei l'arte, la cultura, lo zio Treves, i Gobetti, a Matera, a Firenze dove è scritto il libro Cristo si è fermato ad Eboli, a Napoli e poi pensiamo di concludere a Bruxelles con un omaggio, un dono del Telere di Levi di Italia 61 al Museo Ebraico di Bruxelles.